Ciao a tutti! Allora, avrete visto, spero, il mio video della Capsong. Ho pensato, però, di provare a insegnarla a mia sorella, perché, non lo so, secondo me ha un po' di problemi di coordinazione, quindi se noi ci facciamo due televisate, sicché, ecco qui, siamo pronti, io vi presento mia sorella. Ciao! Eccola qua, mia sorella. Allora, se non siete da qui, non saprò assolutamente che cosa sia la Capsong, perché... E invece lo so perché ho visto il film, Perfect, quello lì. Quale? Il film. Pitch Perfect? Sì! Ma ecco cos'è Pitch Perfect, io non sapevo cosa fosse, è il film Pitch Perfect. Ecco, sì, però non hai visto i miei video, perché lei... No, ho visto i video della tipa. Non hai iscritta al mio canale, non guarda i miei video, niente di niente, va bene. Quindi ti insegno la Capsong. Quindi tu, quello che devi riuscire a fare è questo. Ho sbagliato, aspettate. Questo, per cento a un minuto e quaranta. Ti insegno come si fa. Scusa. Poi chiaramente c'è la canzocina da imparare, dovresti impararla, e mentre fai questo accanti. Ah, pure, poi basta, vuoi anche ballare. Beh, se vuoi, possiamo anche fare un video nuovo. Allora, cominciamo? Sì. Vai. Le due parti ti rimani. Uno, due, tre. Magari se non stai poggiando così, secondo me è meglio. Però vabbè. Allora, uno, due. Ok? Ok. Ancora? Ok. Quindi si fa uno, due. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Allora, uno, due. Tan, tan, tan. Sono già dimenticato. Ancora. Perfetto, ancora? Allora, ripetiamo. Allora, aspetta, aspetta. Ok. Ok? Sì. Andiamo avanti, o ci fermiamo un attimo? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora. Du, ta, 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 ta. Ci stai del fermato di una battuta, e puoi fare, batta la mano. Sì. Prendo il bicchiere. Sì? No. Sì. Sì, allora, batto la mano. Sì. Prendo il bicchiere, e faccio così. Ok? Quindi? Uno, due. Da, ta, 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 ta. No. Devi alzarlo subito e fare così. Ok. Abbiamo la voce fuori campo che mi ha mai. L'abbia detto prima, ma stai zitta, perché sennò nel video si sente come non detto. Allora. Uno, due. Ah, no, aspetta, rifacciamo, adesso. Questa è però una variante che possiamo mettere. Allora, aspetta, mi sono persa, non mi ricordo più. Uno, due. Ta, 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 ta. Ah, ta, ta. Ta, ta, ta. Esatto. Allora, aspetta, rifacciamo. No, mi riuso a prenderlo fuori dretta. Io l'avevo prima in un chat. Allora, aspetta, facciamolo un po' più lento, per favore. Uno, due. Uno, due, tre. Uno. Prendo. Sì, è semplice, prendi, tiri su, e poi così, 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 e così. Ok. Adesso mi sono già dimenticata, rifacciamo. Me ne è legata questa mano, per favore. Allora. No, no, mi fermo. Allora, prendo, cioè, così. Prendo e chiudo. Esatto, e chiudi, sì. Ok. Vabbè, non stare che te l'avranno fatto. Come hai? Te l'avranno fatto. È troppo, sì, perché me la leggo. Dai, allora, vai. Allora. Ok, ancora. No, vado. Allora, ti dici, ti faccio il remonte. Ho capito, mamma, la stai imparando. Niente. Deve sempre, immagino che tutte le mamme siano così un po', no? Mamma, perché non ti vedo? Sennò vieni qua a fare i commenti. Perché solo non ti vedo, no? Ma tu sei fatta, mamma? Sì, lei si ce la fa. Sì. Amen. Allora, scusa. Ti rascondo la mano. Non era giusto, però? Sì, ma ti resta la tempo. Eh, la tempo, no? No, tu fai... Allora. Ta, ta, ta. No. Ah. No, mamma, no. Se ti godirò ancora? Ancora. Dai. Ancora? Eh, è anche finito. Il pezzo è finito, il pezzo è finito, viene dopo. Che pizza. Ancora. Ok, andiamo avanti? Sì. Quindi abbiamo fatto così, così, così. Sì. Batto. Col bordo. Sì. Passo. Passo. Mano. Mano. Quindi. Batto. Quindi batto, prendo, piaccio. Batto. Batto, prendo, passo, chiudo. Uh-huh. Passo e chiudo. Così. 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 Prendo. Passo. Porto. Passo. Mano. Ci richiedi. Speriamo da capo? Sì. Piammela, va? È bellissimo, perché all'inizio si è robotico. Vai, le manole. Vai. Mi piace che mia madre fuori campo dice, ma la mia madre non era così, come se lei sapesse effettivamente. No, mamma, non c'era un'altra battuta. E ti ripeto, vieni qua a sto punto, perché loro dicono a mia chiamata. Dai. No, aspetta, lo facciamo. Posso avvicinarlo? Sì. Beh, però ci sei, eh? Sì, mi era un attimino persa di là. Dai. Allora. Ah, so che bisogna stare, farmi una battuta quando? Ma bisogna farlo così veloce? No, più veloce. Non ci riuscirò mai. Non riuscirò mai. Tu ci sei riuscita? Diciamo che ne faceva uno e al secondo si sbagliava. Ah, bisogna farlo per un minuto. Un minuto e quaranta all'incirca. Io l'ho fatto per un paio di minuti. Mio Dio. Poi andiamo avanti. No, rifacciamo. Ah, ok. Finito. Sì, poi bisogna ripetere. Allora, rifacciamo. Allora. Affetta, mi dimentico così? Allora, prendi così. Sì, ok, ok. Bordo, passo, mano, picchiere. Ok, rifacciamo. Vabbè, dai, però ci siamo quasi, dai. In testa ce l'hai. Mi perdo qua. Sì, vai il pezzo di impresione. Ok. No, no, rifacciamo, scusate. Eh, ok. Ah, rifacciamo dei minuti. Dai, capo, sì, sì. Ok. C'ho lanciato, tipo. Dai, vai. Vai. Brava. Ah, facciamo. Ah, facciamo. Vai. Vai. Di seguito. Vai. Finché non ti sbagli, ora continuiamo a fare di seguito. Sì. Ah, almeno. Finché non ti sbagli, vai finare. Ok, facciamo. Mi sento un po' stupida, sinceramente. Bello, scopera questa. Allò. Ma non possiamo farlo con la musica? Non c'è di musica, questa è la musica Tu devi cantare E devi far tu la musica facendo questo Ma non c'è la musica nel video Capito, ma non è che qui abbiamo la base Noi dobbiamo farlo così Dobbiamo tenere il tempo con questo E quindi darci Dai Non è facile E bisogna cantare? Si, però il ritmo Il ritmo reale Aspetta, proviamo Dai Ah ok, vai Ok, era giusto 3 mi pare Ah, e quando hai fatto i 15 Si, al circa Ok Non c'è la si può fare Mi dimentico il battito E basta Solo lento Perché una volta che lo impari lento Poi chiaramente acceleri Se no Vedi che lento più o meno ti viene Eh ma perché Ti viene Ah ok Continua Mi perdo Ok Ok Con la mano pronta A prendere qualcosa Non lo so E cosa facciamo? Sarà bene così Sarà bene così però sbaglio il bicchiere evidentemente basta abbiamo finito? eh no, con quello devi fare ma per un minuto non ci riuscirò mai ma dite 40 sto video non finisce più sei aspettando noi nooo poi tanti, io ho messato di pezzo assolutamente no, questo è bello no, però potremmo tagliare adesso io glielo darò come compito gli darò che deve imparare la canzone con le parole, imparare questa cosa qua e quindi quella devi fare cioè a questo punto devo vedere la preparazione e il risultato finale allora, adesso lo tagliamo? ok, taglio ma puoi prendere il video e proviamo a farlo dietro alla tipa ma dietro alla tipa è veloce cioè ci sono dei tutorial ma no, dietro al suo video provare magari con la musica riesco non lo so ma poi anche ti viene peggio molto peggio va bene, ok, fatto grazie, arrivederci e no, vabbè, ora dobbiamo salutare sì cosa devi dire? vi ringrazio per aver dato questa oscenità ciao ciao a tutti non perdetemi quindi per il suo video la costringerò tanto il video in cui canterò oltretutto c'è una bella voce bellissima no, grazie no va bene ciao 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 ciao